Non servono alcuni bonus, non servono alcuni accorgimenti. Ieri il Presidente Draghi e noi abbiamo fatto nascere il Governo, su richiesta del Presidente Mattarella, per portare l'Italia fuori dalla crisi sanitaria e dalla crisi economica. Mentre noi stiamo parlando, il Governo c'è, poi cosa faranno i 5 Stelle non mi è dato saperlo. La cosa certa è che l'Italia, le imprese e i lavoratori italiani non possono permettersi 5, 6, 7, 8, 9 mesi di litigi, di ricatti e di controricatti. Quindi se c'è la possibilità di lavorare, noi siamo la forza politica del fare. Se bisogna passare dei mesi a questionare e a litigare, tanto vale ridare la parola agli italiani e avere 5 anni davanti tranquilli, perché non possiamo affrontare una crisi economica, energetica e sociale con la polemica quotidiana.